Regione Toscana, il Consiglio regionale. Nello statuto di Regione Toscana ci sarà un forte richiamo all'antifascismo. È quanto è stato approvato dall'Aula del Consiglio nell'ultima seduta, un atto che vuole essere una vera e propria promozione della memoria della Resistenza. La proposta di legge, in prima lettura, è stata approvata all'unanimità e prevede tra i principi generali l'antifascismo come principio costitutivo dell'ordinamento regionale, al comma 1 articolo 3. Respinto invece un emendamento del consigliere di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa. All'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra Regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello statuto, della carta costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso Alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte dell'accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Sicuramente è una proposta di legge statutaria sulla quale non potevamo non trovare una convergenza come già accaduto in Commissione. Questo però non ci esime dal fare un piccolo rilievo rispetto alla discussione in aula. Una discussione che a tratti può sembrare quasi anacronistico affrontarla nel 2022 di fronte a un'emergenza economico-sociale che tutti quanti ben sappiamo. Però quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi che devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani, io credo che il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione, che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo, avevamo chiesto il ritiro della Pidele Statutaria per un approfondimento ulteriore in Commissione. Perché, ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale, credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Non ci siamo riusciti, però certamente, ecco, oggi nel 2022, credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia, certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica. Anche perché, un'ultima notazione, troppo spesso la contrapposizione ideologica dei buoni contro i cattivi ha condizionato fortemente, fin troppo, anche la vita politica. In qualche maniera, come dire, anche sdoganando un po' certi pregiudizi rispetto a aree politiche che oggi, come dire, si propongono invece come legittimamente interlocutori nell'ambito del panorama democratico della nostra nazione. Abbiamo votato a favore dell'inserimento del concetto, del principio dell'antifascismo nel nostro statuto perché mai come oggi la lotta al totalitarismo passa soprattutto dall'aspetto culturale. L'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dalle istituzioni. Questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo, anche perché l'Italia deve, per certi versi, fare ancora i conti con la propria storia che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più e per sottolineare che qualunque rigurgito di fascismo, nazismo, che ancora purtroppo emerge in questa società, deve essere con forza ricacciato indietro. I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza, sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana, lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo Statuto della Regione Toscana, due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire, la nostra azione di legisferazione. Può essere un dato scontato, ma non lo è, il fatto che abbiamo voluto modificare lo Statuto e inserire questi principi all'interno della Carta fondamentale della Regione Toscana con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa. Vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro. Ricordare, segnare nello Statuto della nostra Regione questi valori è un elemento costitutivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà in un momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che insomma quello che è successo soltanto 50-70 anni fa non può essere dimenticato. Noi abbiamo convintemente lavorato sia in Commissione e chiaramente poi con un voto affavorevole in Aula l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando con la prestazione di un emendamento il dibattito in Aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo. Cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra smisconosciuto ancora in quest'Aula dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione, fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo o di anticomunismo che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989, ma l'abbiamo fatto senza esito. Si è cercato di innescare un dibattito d'ordine ideologico molto molto triste, molto molto anche parcellizzato con riferimenti e contesti che appartengono sostanzialmente a tutti come a tutti appartiene la radice antifascista su cui si basa la nostra Repubblica e chiaramente è così sancito nei testi della nostra Costituzione, ma volevamo cercare di far capire che probabilmente oggi la questione, per essere compresa a livello globale, andasse sostanzialmente presa nell'ottica di condannare invece il fenomeno nella sua complessità. L'antitotalitarismo non è soltanto antifascista o anticomunista, assume forme diverse, ma sostanzialmente quest'Aula molto probabilmente voleva operare in tutt'altra direzione. In ogni caso ci siamo chiaramente anche noi posti in una votazione favorevole, cercando però appunto di capire se era possibile sostanzialmente attualizzare un messaggio che serve per comprendere i problemi del presente e probabilmente anche del prossimo futuro. Presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso a Firenze è l'edizione 2022 del Mango Music Fest che si svolgerà dal 5 al 9 luglio ad Arezzo al Parco del Prato. Tante le band che parteciperanno e artisti, tra cui Dito nella Piaga, la rappresentante di lista è Fabi Fibra. Siamo alla diciottesima edizione, è una grande emozione tornare a fare i festival, gli eventi come conoscevamo, come sapevamo prima della pandemia. Torniamo al Parco del Prato di Arezzo con un grande entusiasmo, un grande gruppo, un grande sostegno da parte delle istituzioni, del Comune di Arezzo, delle Fondazioni Arezzo in Tour, della Fondazione Guido d'Arezzo, della Regione Toscana, del Consiglio regionale e tanti sponsor e partner che ci supportano in questa avventura. Il cast è veramente importante, da Fabi Fibra che chiude la serata alla rappresentante di lista all'apertura, dal 5 al 9 luglio siamo pronti con questa diciottesima edizione per un grande evento che la città aspetta e vediamo anche grandi riscontri da tutta la Toscana. Sì, una diciottesima edizione che, lo dicevamo prima, diventa maggiorende il Mango, però ha da subito dimostrato di avere grandissima capacità di leggere i desideri e i desiderata dei più giovani. Mi dispiace citarmi, ma è una cosa che è nata quando io facevo l'assessore ai giovani del Comune di Arezzo e è nata dalla capacità di gruppi di ragazzi aretini che hanno creduto di poter investire nel proprio territorio. Guardate che questo non è un passaggio semplicissimo. Lo fecero in un quartiere molto piccolo della città, lo facevano per far qualcosa per quei ragazzi di quel quartiere. Fu così che vennero a trovarmi e sono diventati grandi loro, grande la manifestazione, ma evidentemente la capacità che da subito dimostrarono di leggere i bisogni e quello che piace ai giovani ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Il Mengo quest'anno sarà al Prato, come da diversi anni ormai a questa parte, non ha mai scimmiottato manifestazioni che anche nel nostro territorio ci sono state, hanno avuto una caratteristica propria e brillano davvero e faranno brillare la città in questi primi giorni di luglio. Un'agenda ricca, il senso di grande attenzione a quelle che sono la modernità e tanti artisti che vengono seguiti soprattutto dai ragazzi più giovani. È bello sapere che questo festival non si è fermato mai, anche in questi anni più complessi, ma con questo programma così ricco dà il senso vero della ripartenza. E fa di Arezzo in quei giorni la capitale toscana della musica. È un'iniziativa bella, un'iniziativa vicina ai più giovani, un'iniziativa da valorizzare, come abbiamo provato a fare anche noi come Consiglio regionale, sostenendola, sostenendola convintamente, perché attraverso il linguaggio della musica si riesce ad arrivare al cuore, all'emozione delle ragazze e dei ragazzi più giovani e penso che dopo questi anni terribili della pandemia sia molto importante ripartire proprio da loro. Noi abbiamo sostenuto tutti, abbiamo tentato di ristorare ogni categoria, ma i giovani non siamo riusciti a restituire quella socialità che è mancata. Ecco, con eventi di questo genere si torna a sorridere, si torna a incontrarci, si torna a rivivere la bellezza della musica. Siamo qua, appunto, il Mengo Festival diventa maggiorenne, siamo alla 18esima edizione e come Fondazione Arezzo in Tour, naturalmente collaboriamo alla riuscita del Festival. Il Festival naturalmente si svolge ad Arezzo, c'era una grande voglia appunto di riprendere, di riniziare questa attività. Di fatto, nell'estate a Retina è uno degli eventi più importanti, segnale che si lega molto bene anche il brand Città di Arezzo al Festival. Quindi, siamo pronti, faremo la nostra parte su quello che riguarda l'accoglienza, quindi buon festival che sicuramente rispecchierà e supererà appunto anche in termini di presenza gli anni passati. Si è svolta a Firenze, nella sede del Consiglio regionale, l'incontro interistituzionale del coordinamento nazionale dei Coricom, i Comitati Regionali per le Comunicazioni. Sul tavolo, oltre all'approfondimento sul mondo della comunicazione che cambia, sulle regole e disposizioni in continuo di venire, anche il confronto sul prossimo accordo quadro con l'Autorità Nazionale per le Comunicazioni, la G.com, sull'esercizio delle funzioni delegate ai Coricom e alle convenzioni tra l'autorità e gli stessi comitati regionali. Sul tavolo di lavoro, anche la legge sulla par condicio, legge ormai anziana e da rivedere, secondo i partecipanti. Presidente, un incontro importante con i comitati regionali del Coricom quest'oggi, con quali obiettivi? L'obiettivo che abbiamo è sempre quello di offrire servizi migliori ai nostri cittadini. Oggi siamo qui, insieme alla dottoressa Sala, a tutti i presidenti dei Coricom, sia in presenza che da remoto, per fare un punto sull'accordo quadro che stiamo per stipulare con l'Agicom. Il mondo sta cambiando, le comunicazioni stanno cambiando, le deleghe sono molto differenti rispetto al passato, ci sono anche differenze tra i Coricom regionali, perché poi le funzioni proprie di ogni Coricom sono differenti, mentre le deleghe che vengono date da Agicom sono simili. Il nostro obiettivo è quello di cercare di trovare le condizioni per offrire sempre un servizio migliore ai cittadini. Il lavoro che svolgono i comitati regionali, i loro presidenti, è un lavoro importantissimo. Il nostro obiettivo è cercare di mettere un ulteriore mattoncino per fare in modo che tutto possa sempre funzionare al meglio. Non è un accordo semplice, è un accordo che richiede ancora lavoro, approfondimento. Oggi questa è una giornata di confronto e di ascolto per sentire le istanze che arrivano direttamente dai comitati regionali. Poi io, insieme al dottor Pietrangio, alla struttura della presidenza dei consigli regionali, lavoreremo per cercare la soluzione migliore possibile, pensando sempre che la cosa più importante sono le risposte che noi diamo ai nostri cittadini. L'incontro di oggi con il presidente Mazzeo, in veste di delegato dei presidenti dei consigli regionali ai rapporti con i Corecom, è un importante incontro interistituzionale ed è l'occasione per noi Corecom, comitati regionali per le comunicazioni, di affrontare i temi di questa comunicazione che cambia. La nuova tecnologia che cambia la velocità della luce richiede necessariamente dei nuovi modelli per poter affrontare le modifiche. E quindi questo diventa un primo passaggio per coordinare i comitati regionali con i consigli regionali. Non solo, entro la fine dell'anno dovrà essere firmato il nuovo accordo quadro tra Agicom, che è l'autorità garante per le comunicazioni di livello nazionale, e i Corecom, le autorità locali. E quindi, visto che i consigli regionali hanno un ruolo da protagonista nella stesura di questo nuovo accordo quadro, diventa importante questo momento di confronto.